Sarebbe stata molestata la studentessa francesa, stata trovata morta nella sua stanza in via Papagoda a Lecce. Si è suicidata dopo essersi chiusa nella sua cameretta. Viveva in un appartamento condiviso con altri studenti. A dare l'allarme è proprio un suo coinquilino. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti a schetenare il tragico evento, sarebbe stata una molestia o una violenza che la 21enne avrebbe subito proprio qui a Lecce. A certificarlo ci sarebbe un certificato trovato dagli uomini della polizia che stanno portando avanti le indagini coordinate dal procuratore generale Leone De Castris. La ragazza nei giorni scorsi sarebbe andata in ospedale per un controllo in seguito a una presunta violenza subita. I sanitari avrebbero certificato il tutto con un certificato ritrovato nella stanza dagli inquirenti. La giovane però non avrebbe proseguito con la formalizzazione di una denuncia. Al momento le indagini sono in corso e la scientifica sta ispezionando la stanza dove si potrebbe essere consumata la presunta violenza. La studentessa avrebbe scritto un messaggio d'addio alla famiglia in francese.